Cominciamo con qualche esercizio di riscaldamento. Per prima cosa mantenendo le lettere verticali, con un'angolazione di circa 45 gradi. E adesso con un'inclinazione in avanti. In questo modo. Cercate di mantenere la spaziatura e il peso del tratto delicato e regolare. Adesso proveremo con qualche forma a U. Prima in verticale. E ora con un'inclinazione in avanti. Questa volta realizzeremo la forma della lettera. Questa volta realizzate la più arcuata. Assicurandoci che i punti di diramazione siano più alti. Adesso proviamo con le forme capovolte a U. Cominciate a sentire il ritmo. E adesso proviamo con un lato. con qualche lettera. Per la A assicuratevi di tenere il pennino a 45 gradi, scendete dritti e create una piccola curva fermandovi in cima alla linea dell'altezza della X. Realizzate la barra dritta, disegnate una linea dritta verso il basso e terminate con una piccola grazia curva. Cominciate la K con una piccola grazia curva a 45 gradi, disegnate una linea dritta verso il basso, salite per la diramazione e a circa metà strada verso il basso procedete verso l'esterno e poi terminate con una grazia. Per la P disegnate una piccola grazia per cominciare e completare il primo tratto, tornate all'interno della linea di base all'altezza della X, scendete dritti e paralleli alla prima linea e spingete verso l'interno. Per la S cominciate alle 11 in punto circa e terminate attorno alle 5, tornate alla linea di testa e disegnate una piccola grazia sulla S.